ciao sono cinzia del gruppo di arte notizie by cinzia whatsapp mi rivolgo a voi massimo saluta ciao gruppo ok allora no video devo farli corti perché whatsapp non li carica poi che io vi ho mandato anche dei video lasciamo perdere questo voglio dire vi ringrazio della vostra partecipazione collaborate pubblicate scrivete fate il vostro il gruppo perché il gruppo rafforza in così è positivo non è nei social dove insomma diciamo è il nostro gruppo e c'è anche un racconto di questa storia su londra e vabbè il terzo è il decimo video ragazzi allora ho delle idee insomma specifiche per voi nel senso vi raccomando specifiche no nel senso io so le persone che ci sono adesso poi si aumenteranno quindi chi è di ravenna parlare di rave londra si parleremo della city parleremo delle cose anche che vi riguardano ho delle idee che svilupperò va bene ok devo chiudere il video direi di sì ciao ciao ciao